alexa perché ogni volta che ballo canto finiscono le canzoni allora chef oggi che cosa ci propone uno spaghettino a milano ora scommetto che alexa che adesso vi faccio vedere chi è solo a me non da retta allora alexa canta una canzone in inglese alexa singa song singa song vi presento alex ok alexa set off the light please okay another one please the other one please alexa alexa tell me the sex of the shindan alexa alexa i'm your friend please please tell me the sex of the shindan allora vi parlo oggi di questi di cui mi chiedete in tantissime i cerottini labbra volumizzanti di selfie che cosa sono questi sono dei cerottini che contengono dei micro agli di acido ialluronico che appunto hanno un effetto volumizzante in questo caso questi sono per le labbra ora vi faccio vedere l'applicazione che è semplicissima dispergiamo prima bene le labbra proprio perché applichiamo i cerottini che non vanno mi raccomando ragazze pressati o strofinati perché altrimenti roviniamo i micro agli ma vanno semplicemente picchiettati allora ce ne sono due quello superiore quello inferiore adesso vi faccio vedere l'applicazione che è semplicissima ripeto sono volumizzanti con acido ialluronico vanno tutti su due ore e dopo appunto possiamo rimuoverli lo applichiamo con i micro agli rivolti verso il labbro e lo lasciamo in posa adesso tutto anche quello inferiore due ore pigiando vi lascio il link il tag di biselfie fino all'ultimo fino all'ultimo io sono ascioccata io sono ascioccata bravo bravo cioè ragazze io lo so che vi è delusa perché noi volevamo l'applicazione ma ha vinto lui bravo amore mio grazie un grande merito 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 Quando quest'alba esploderà Sarà la fine di ogni stella Ora raccomando il catare a terra Amor che nulla hai dato al mondo Quando quest'alba esploderà La componente maschile ha predominato Ma perché? Perché mi dovete mettere in difficoltà? Non mi bastano due C'è fuori appresso a due Le parliamo poi Grazie, è arrivata una ragazza Ha fatto una foto Si è messa vicino a Teresa Ha detto Perché Rosa è gelosa Ma ti rendi conto che tu le terrorizzi queste ragazze Io vi amo Tu fai terrorismo Amore Queste sono femmine che rispettano le femmine